Sono da Piazza Carignano dove sono state contestate le cosiddette sentinelle in piedi, siamo con due dei manifestanti, come mai siete qui? Perché abbiamo visto l'evento su Facebook, sui vari telegiornali, c'erano le sentinelle, questo evento e su Facebook abbiamo trovato la contramanifestazione e quindi eravamo in tanti e ci siamo giunti anche noi. E potete raccontarci com'è andata? Ma diciamo che c'era un rispiegamento delle forze dell'ordine consistente, quindi non è che abbiamo potuto fare molto a parte ovviamente urlare, il disappunto e i vari cori eccetera. Allora eravamo molto più noi che lo... Sì, era chiaro, però ovviamente loro hanno il diritto di manifestare, questo qua sono d'accordo, però dispiace un po' che usino una delle piazze più belle di Torino, forse per me gli avrei dato Piazza Benghazi, così. Però è un diritto di manifestare, però insomma vogliono vietare la libertà a una larga fatta rispetto alla proporzione mondiale. Sì, certo, però non penso che vietare la libertà a loro aiuti la causa, direi che la cosa giusta da fare è esprimere il disappunto e far vedere la società civile dal nostro lato e non dal loro. Perché noi siamo molti di qui. Esatto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.